Buongiorno a tutti, amanti della musica e dell'attualità. Oggi ci immergeremo in uno scuro scenario che coinvolge due figure di spicco nel mondo della musica rap italiana, Marrakash e Gepequeno. I due artisti, apparentemente al di sopra di ogni sospetto, si trovano ora al centro di un'inchiesta che li collega a un noto boss incarcerato per traffico di droga, Nazareno Calaiò, noto come Inazza. Scopriamo insieme i dettagli scottanti di questa vicenda che ha scosso il panorama musicale e criminale. Se anche tu vuoi scoprire gli intrecci segreti della musica rap, metti mi piace e iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Le accuse mosse nei confronti di Marrakash e Gepequeno emergono da un'indagine condotta dai pubblici ministeri, Francesco De Tommasi e Gianluca Aprisco. Pur non essendo formalmente indagati, i due rapper sembrano essersi messi al servizio del boss Nazza, come evidenziato in una nota della polizia penitenziaria. Un passato legato a saluti pubblici durante concerti e ringraziamenti nei confronti della famiglia Calaiò mette in luce un legame insospettato tra la scena musicale e il mondo criminale. La procura di Milano afferma che la fama e il successo dei rapper avrebbero contribuito al tornaconto del boss, anche come strumento per professare la sua presunta innocenza. Citazioni intercettate rivelano l'importanza attribuita dai criminali alle dediche canore e alla produzione di merchandising a sostegno di Nazza, creando un connubio inquietante tra il mondo della musica e il sottobosco criminale. Pensi che la fama dei rapper possa essere manipolata a fini criminali? In questo intricato intreccio di fama, soldi facili e presunti legami con il crimine, Marrakash e Ghe Pequeno si trovano ora sotto i riflettori della giustizia e dell'opinione pubblica. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa storia in continuo sviluppo. Non dimenticate di condividere e iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sulle vicende più scottanti del mondo, della musica e non solo.